Fervono i preparativi per il cenone di Capodanno, ma i castellanetani cosa porteranno sulle loro tavole? Siamo andati a chiederglielo. Cosa preparerà lei da mangiare il 31? Allora si mangiano le leitecchie, le salsicce, non sono tante belle cose. Cosa cucinerà domani sera al cenone di Capodanno? Allora devo cucinare gli antipasti naturalmente di mare, il pesce, poi il risotto ai frutti di mare, i gamberoni arrostiti e poi frutta. E che dobbiamo preparare? Pensa che è la signora mia che prepara la pasta fresca, è il leader della pasta fresca. Vedete la pezzocchetta, vedete, che voglio fare sentire? Cosa preparerai domani sera? Perché so che tu preparerai domani sera al cenone di Capodanno. Certo, certo, domani sera il mio amico Daniele della pescheria mi invita degli astici vivi, che io preparo con dei pomodorini, della salsa che ha fatto mia mamma. E un po' di vino bianco con dei paccheri freschi. E questo sarà, diciamo, il primo antipasto, niente perché poi il giorno dopo si mangia tanto, quindi niente. E per, come secondo, un filetto di spigola in crosta di zucchine con un contorno di finocchi. E niente, frutta, frutta secca e niente. Le lenticchie, cotechino e uno spumantino per festeggiare, per mandare via l'ultimo dell'anno, insomma. Facciamo qualcosa così, un po' di salmone, un po' di affettato, due robe aggratinate. Cosa mangerò al cenone? Aspetta, Rossella, passami il menù per piacere. Ah, c'è proprio... Sì, perché non lo so io, abbiamo fatto il menù qua, cestino di provola affumicata con prosciutto a flamberto, patatine di melanzane, aspetta, e gattù, gattù sta scritto qua. Patatine di melanzane. Tortine, tartine di melanzane. E' un po' di pesce bello, buono, fresco. E perché ridi? Perché mi fai tu ridere? Cosa non può mai mancare sulla tavola del cenone di Capodanno? Eh, lo zampone con le lenticchie. Pesce, il baccalà, le lenticchie. Penso a base di pesce più che altro, quello non deve mancare, o il baccalà. Noi siamo molto agli ostaccavoli, il baccalà, quello non dovrebbe mancare. Prima di tutto, per fine anno, il panettone con lo spumante, zampone, lenticchie, il pesce fritto. Donna, Santa, le lenticchie, il cotechino, ma grazie Vivi Castellanita, grazie, devo andare a comprare velocemente. Il piatto che non deve mai mancare sulla tavola di tutti qua? E' il baccalà, il baccalà non deve mancare mai. Come lo facciamo sto baccalà per il 31? Come lo vuole, così lo fa. Quello più lo bagna e più si gombia. Poi lo puoi fare arrostito, come lo faccio? Baccalà. Dipende quale è il baccalà. No, facciamo la di terra e con il mare. Qual è la frutta che si mangerà il 31? Sempre banane, 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 banane. Questi sono di palagianello, ieri sera le abbiamo raccolte, fresche. Quindi qua diciamo che la frutta che va è il 31, giusto? Quindi comprate le banane per il 31 dicembre per il cenone di Capodanno. Bellissimo, se manca la banane non è Capodanno. Cosa mangerò? E lo devo studiare ancora, non sono preparata a queste domande. E per chi fosse ancora indeciso, ecco qualche idea per l'attesissimo cenone del 31. Quali sono i prodotti più venditori? che sono i prodotti più venduti per il cenone di Capodanno? Guarda, il prodotto più venduto come possiamo vedere è quasi tutto, non c'è una cosa in particolare. Però noi comunque offriamo prodotti già pronti da cucinare. Non c'è bisogno che nessuno perde tempo, abbiamo le seppie, quelle già gratinate, le alici marinate, le capesante già ripiene, gli spiedini, tutta roba di marinato, tipo tartare di tonno, pesce spada marinato, polpa alla Luciana. Alla fine cerchiamo sempre di accontentare il cliente, anche con i frutti di mare, abbiamo frutti di mare di tutti i tipi, dalla tagliatella, dal crudo, ma tutto. Per chi avesse qualche dubbio ancora, ti senti di consigliare qualcosa? Un prodotto che consiglierei, parliamo di pesci un po' più grossi, andiamo sul dentice, sulla cernia, sulle rate di mare, sulle spigole, gli astici, aragoste e abbiamo anche la qualità del capitone oppure l'anguella. Eppure panettone, prosecco, spumante e allegria, tanta allegria. E tanti auguri, ha detto tutto. Basta, ok. Buon anno, mi raccomando, forti. Buon anno, mi raccomando.